Una residenza, una seconda casa a 2000 metri con un impianto ibrido, GPL elettrico e una pompa di calore. Andiamo a scoprirlo. Federico, portiamo un progetto ad Archie Energy che è stato anche premiato. Raccontalo brevemente. Sì, sì, sì. Tre progetti menzionati del concorso 2019. E' un edificio quasi passivo, ovvero la riqualificazione di una villa al Verranche, significa ai piedi nel Monte Bianco, in un punto molto bello della Valle d'Aosta. Altitudine? Altitudine sopra i 2000, adesso non ricordo di preciso, però mi ricordo che fa molto freddo. Quindi l'impianto e la coibentazione dell'edificio sono stati un passaggio fondamentale. Il seno termico si vede tanto. Sì, sì, di neve ce n'è tanta. Infatti lì la sfida è stata molto interessante perché, cioè di mettere una pompa di calore ad aria in un posto così freddo. E perché il committente, che era una persona molto interessata alla parte progettuale, ha detto spendiamo un po' più di tempo e anche un po' più di soldi nel fare una diagnosi energetica, ovvero cercare il miglior impianto e il miglior involucro isolato che fosse adatto all'edificio. E quindi sono state scartate tutta una serie di impianti per andare poi su un impianto ibrido in pompa di calore, aria e poi caldaia a GPL. La diagnosi energetica ha restituito come idee fondamentali il fatto di fare un involucro molto ben isolato e agendo sul vecchio, addirittura muro in pietra, anche abbastanza umidi, non è stata una cosa semplice. Quindi inerzia termica. Inerzia termica che è stata un vantaggio, però l'isolamento termico su un muro vecchio e umido in pietra è stato un difficilino da gestire, però siamo arrivati a dei valori da casa passiva. Rifacimento completo del tetto e abbiamo fatto un ampliamento davanti di circa un 25% del volume con un edificio in legno, quindi Xlam. Anche quello è stato un tema a parte quasi. L'edificio poi nel suo complessivo viene riscaldato con radiatori a medio-bassa temperatura. Non ci potevamo permettere i pavimenti radianti perché lo spessore dei pavimenti era troppo basso, non c'era poi più l'altezza abitabile. L'orientamento di questo edificio è di solito importante. Sì, è molto importante perché lì la cosa fondamentale era la vista. Essendo davanti al Monte Bianco, anzi sotto al Monte Bianco, doveva prima di tutto avere una vista meravigliosa. C'è un terrazzo sul fronte sud-ovest, quindi per fortuna nostra era ben esposto, e su quel terrazzo si capta anche molto sole, quindi contribuisce tutto ad abbassare notevolmente i consumi di energia. E' previsto anche l'utilizzo di biomasse? No, in questo caso no. Abbiamo optato per un impianto molto facile da gestire, quindi GPL e energia elettrica, aiutata dal pannello fotovoltaico sul tetto, che tra l'altro anche lì non siamo stati né ad eccedere, prima di tutto perché volevamo vedere delle lose sul tetto, al massimo quattro pannelli fotovoltaici. E poi perché in effetti, essendo una casa d'uso saltuario, uno l'accende un po' on demand, quindi gestita... Ecco, questa è una cosa interessante. Una casa, una seconda casa su saltuario, ovviamente di solito si tende ad accendere un po' prima il riscaldamento, cioè a gestirlo da remoto. Avete previsto questo? Sì, assolutamente. Infatti quello era un tema fondamentale per questo edificio ed è per quello che alla fine di questa operazione di diagnosi iniziale, l'impianto Vito Caldense 222 di Wisman si dimostrava essere quello più azzeccato per risolvere il problema, perché era coordinata... Dialogo, interface... Al prossimo episodio Al prossimo episodio